Due dirigenti pubblici e tre professionisti hanno avuto una citazione in giudizio per l'avvio del processo contabile nei loro confronti, perché ritenuti responsabile di un danno erariale stimato in circa un milione e mezzo di euro, pari al contributo che era stato erogato dall'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in quanto intervenuti a vario titolo nell'esecuzione dell'appalto per la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura per l'acqua calda sanitaria presso 24 presidi ospedalieri, ricompresi nelle aziende sanitarie provinciali di Cosenza, Crotone e Vibo Valenza. Impianti che, malgrado fossero stati costruiti nel 2012, non sarebbero mai entrati effettivamente in funzione e quindi ora si troverebbero in stato di totale abbandono e incuria, visto che non vi sono mai stati eseguiti interventi manutentivi né ordinari, tantomeno straordinari. Il mancato utilizzo sarebbe dovuto a possibili errori in fase di progettazione, come il non corretto dimensionamento degli impianti in rapporto alle esigenze delle strutture, la mancanza di coordinamento con gli impianti idraulici preesistenti o addirittura il posizionamento in zone a ridotta radiazione solare. Nella maggior parte dei casi sembra che i lavori siano stati realizzati senza le preventive autorizzazioni o concessioni comunali e, quando necessario, senza le autorizzazioni previste in presenza di vincoli di tutela paesaggistico-ambientale, circostanza che ha indotto i comuni, per alcuni impianti, a combinare specifiche sanzioni e a emettere l'ordinanza di demolizioni delle opere abusive eseguite. Ai cinque si contestano condotte gravemente colpose, sia con riferimento alla correttezza dei progetti, sia i successivi controlli demandati a figure tecniche chiamate a tutelare l'amministrazione pubblica nell'adozione del programma di miglioramento energetico.